Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, come potete vedere dal casino che c'è dietro di me siamo in pieno trasloco verso l'Italia, volevo farvi questo video di aggiornamento prima di mandarvi un like tutti i video delle Maldive, se mi seguite su Instagram sapete che sono malaticcia per questo ho questa voce un po' nasale ancora, scusatemi stiamo impacchettando tutta la casa e poi saremo via per il mese di dicembre molto probabilmente tra Canada e Trieste per poi trasferirci definitivamente a Trieste ad inizio gennaio l'unica stanza che è ancora intatta è la camera da letto e oggi voglio proprio farvi un room tour che sarà ovviamente l'ultimo room tour da questa casa e dall'Olanda in generale qui c'è Gatto Denver già pronto per il nostro room tour, ciao bubu ciao amore mio volevo disfarmi del vecchio materasso in questo periodo prima di trasferirmi a Trieste perché era completamente distrutto, aveva la conca al centro praticamente e ci lamentavamo ogni mattina del mal di schiena ed è capitato proprio a pennello quando vi dico la legge della trazione che mi abbiano contattata da Emma Mattress, da Materassi Emma molto probabilmente già conoscete questo marco perché sono molto molto famosi e mi hanno offerto appunto di lavorare con loro e quindi oggi posso farvi vedere oltre al room tour vi faccio vedere anche il nostro nuovo materasso che ragazzi è un sogno è una settimana che lo testiamo e vi dico solo una cosa il mio mal di schiena è scomparso, è sparito mi sembra di dormire sulle nuvole questo è il logo, questo è il nostro materasso appunto Emma Gatto Denver come potete vedere è molto molto comodo e non riesco a toglierlo da qua ma non voglio disturbarlo quindi sarà anche oggi lui protagonista sempre protagonista, hai ragione, sempre bubu questo è appunto il nostro nuovo letto che è 160 per 200 cm quindi 160 per larghezza e 200 per lunghezza che è praticamente la stessa misura di quello che avevamo prima qui ci sono ancora tutte le cosine naturalmente che dovrò togliere perché i quadri andranno tolti porteremo via assolutamente tutto quanto perché i mobili sono tutti 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 miei in questa casa dobbiamo ancora inscatolare l'interno dei comodini mentre il mobile che ho dietro alla porta che è pieno 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 di trucchi verrà semplicemente imballato e portato via così come sta altre cosine che dobbiamo impacchettare ma siamo a buon punto come avete visto il soggiorno è praticamente fatto e anche da questa parte c'è il comod e vanno inscatolate l'interno insomma dei tre cassetti però ci siamo quasi qui ci sono tutti i miei profumi penso di lasciarne fuori soltanto uno quello piccolino da viaggio che avevo portato anche alle Maldive per il resto anche questi andranno tutti impacchettati direttamente a Trieste e proprio riguardo il materasso volevo farvelo vedere un attimino in modo che possiate capire e dirvi anche quale modello ho vi faccio vedere e questo è il materasso così potete vederlo bene si chiama Emma Hybrid è strutturato in schiuma a ergo cell ed è fatto in schiuma viscoelastica adattiva quindi si adatta molto molto bene alla forma del nostro corpo e penso che questo sia un po' il segreto per il quale è così comodo la cosa che piace di più a Michael è che questo è un cooling mattress quindi ha un effetto cooling e non so se capita lo stesso anche a voi ma tipo io ho sempre freddo e lui ha sempre caldo non so se è perché è uomo perché so che è una cosa tipica degli uomini o perché è canadese o è un po' una combinazione di entrambe le cose ma questo materasso fa veramente la differenza rispetto a quello che avevamo prima perché qui non si lamenta di quanto faccia caldo ogni notte e io non soffro il freddo proprio grazie alla tecnologia termoregolante che fidatevi se avete questo problema è la soluzione ragazzi perché se avete caldo vi fa stare al fresco se siete freddolosi come me vi tiene al caldo vi faccio anche vedere direttamente dal sito com'è strutturato in modo che possiate vedere tutti gli strati è estremamente adattabile appunto è super super non voglio dire morbido perché in realtà non è troppo morbido cioè è comodo perché i materassi troppo morbidi di solito non sono comodissimi questo è comunque fermo però si adatta alla forma del nostro corpo e questi sono i dettagli riguardo a tutti gli strati con cui è formato il nostro materasso Emma quindi abbiamo la schiuma il memory foam il materiale di supporto la tecnologia molle insacchettate e lo strato di stabilizzazione a parte naturalmente la comodità del materasso Emma di cui posso parlarvi voglio menzionare due cosine molto molto importanti che come sapete pochissimi brand offrono ovvero la garanzia soddisfatti o rimborsati che in questo caso con Emma è di 100 giorni anzi 100 notti e la 100 night risk free trial quindi potete acquistare il vostro materasso Emma provarlo per 100 notti che sono tante per rendervi conto che sarà super super comodo ve ne basta una ma ve ne offrono 100 e se non vi trovate bene appunto potete rimandarlo indietro ed essere rimborsati completamente oltre a questo ci sono anche 10 anni di garanzia che è molto molto importante secondo me su ogni materasso adoro guardare la camera da letto che è così perfetta ma purtroppo quello che mi aspetta è questo è continuare ad inscatolare e a appunto sistemare e preparare tutto per il trasloco vi aggiornerò presto con altri vlog non appena starò un pochino meglio ma soprattutto vi caricherò tutti i video delle Maldive nel frattempo che sono veramente tanti ma su Instagram già vi sto caricando tante fotine quindi fatemi sapere se avete visto quelle nel frattempo vi lascerò il codice sconto che mi hanno lasciato da Emma per voi che va a sommarsi a tutte le promozioni pazzesche che ci sono attualmente per il Black Friday che arrivano fino al 70% di sconto quindi vi lascerò il link giù nel box informazioni quindi questo è quanto per il video di oggi mia family scusatemi ancora una volta se la mia voce non è proprio al top vi prometto che poi appena mi riprendo vi parlo anche un pochino di più del trasloco dei motivi che mi hanno spinta a lasciare l'Olanda ma quello appunto farà tutto parte di un altro video dedicato come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video ciao 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 ciao